Buongiorno a tutti, siamo qui con il nostro amico e collega, nonché iscritto alla Freelance International, Giorgio Vitali, molti di voi lo conoscono, comunque ci tengo a precisare che Giorgio oltre ad essere un collega di lunga data è anche presidente di Inforquadri, un sindacato che si occupa dei quadri, che si occupa di tutelare i professionisti dipendenti da... Esattamente, facciamo una definizione di quadro che è importante visto che è sparito dall'orizzonte della politica italiana, i quadri sono quei professionisti che svolgono un'attività professionale, non come liberi professionisti, ma come dipendenti, si chiamano quadri e finora non hanno ottenuto mai dei riscontri in quanto quadri professionali. Quindi noi ci battiamo da lungo tempo per ottenere quello che dovremmo avere e con questo la chiudiamo qui. Benissimo, magari questo sarà oggetto di una prossima... Ne parleremo, sì, ne parleremo un'altra volta perché è giusto che se ne parli. Vorremmo parlare un po' di geopolitica perché la riteniamo molto attuale oggi e vorrei fare... sono venuto qui, ospite credo gradito dal nostro collega e amico Giorgio per fargli qualche domanda perché dall'alto della sua esperienza e diciamo anche del suo sapere per quanto attiene le tematiche di geopolitica potrebbe... è senz'altro uno dei migliori interlocutori per avere... Grazie del complimento... Delle giuste risposte. Allora Giorgio, domande bruciapelo. Noi abbiamo perso la guerra. Abbiamo... Attenzione, l'Italia ha fatto la guerra all'Inghilterra. Chiariamolo bene. Noi non abbiamo fatto la guerra alla Russia. Ci siamo andati, presi per il collo e strascinati. Ma la nostra guerra... La dichiarazione di guerra è stata... La nostra guerra è stata esclusivamente contro l'Inghilterra. Chiariamolo sempre e sono gli inglesi quelli che hanno vinto assieme all'aiuto degli americani ma che hanno vinto in Italia. Non è un caso che la conquista dell'Italia sia partita dal sud e su queste cose mi sono soffermato molte volte. È una lenta, graduale risalita che ci... Ho dato la domanda però. Abbiamo perso la guerra con tutto quello che ne è conseguito. E facciamo parte della Nato. Noi abbiamo 120 basi Nato ufficiali in Italia. che però sono basi prevalentemente statunitensi. Nato per modo di dire. E forse altrettanto non ufficiali forze americane. Va bene, questo è quanto. Quindi dobbiamo dare un obolo diciamo alla Nato perché abbia la funzione... Siamo perché siamo protetti. Funzione militare sia da spauracchio soprattutto nei confronti della Russia. Cioè è una protezione. Quindi noi dobbiamo pagare le truppe militari perché ci difendano dalla Russia soprattutto. Il termine più pertinente si chiama Pizzo. Pizzo. Pizzo si chiama. Perché è la protezione. Quando quell'amico degli amici che si... entra in un certo negozio e gli dice da ora in poi tu ci dovrai pagare perché noi ti proteggiamo. Questo si chiama Pizzo. Me l'hai tolto dalla bocca. Volevo spiegare un po' più diplomaticamente la situazione. Il fatto è che alla luce dell'intervista che Putin ha concesso al giornalista americano... Adesso non... Che non è l'ultimo venuto quel giornalista americano ricordiamocelo bene. Esatto. E insomma si è capito che lungi dalla Russia cercare di invadere l'Europa diciamo. Non ha interesse. Non ha interesse. La Russia non è uno stato. È un continente che ha nove fusi orari. Ricordiamocelo bene. Nove fusi orari. Quindi terra di smisura. Non ha bisogno di noi. E parlando con Giorgio prima di questa intervista lui mi ha detto una cosa che io non sapevo. Cioè che la Russia sta cercando di industrializzare... Industrializzare e sfruttare interamente la Siberia. Puoi spiegare meglio ai nostri... Beh lo spiego subito. Qualche anno fa è venuto a Roma il capo delle ferrovie russe quando ancora c'era la pace diciamo. E in una conferenza ha spiegato l'enorme progetto che è stato fatto di sfruttamento integrale agricolo, industriale, estrattivo dell'intera Siberia e dei paesi dimetrofi ovviamente. Perché quando noi parliamo di Siberia dobbiamo parlare anche degli altri piccoli paesi di quell'area che in un modo o nell'altro sono sotto la Russia. Questa è la vera ragione per cui gli Stati Uniti hanno scatenato questa guerra costringendo ovviamente la Russia a reagire e tanto è vero che appunto Putin nella sua intervista ha detto noi non abbiamo nessun interesse a conquistare degli spazi, degli altri spazi, a parte il fatto che al suo tempo la Russia quando ci ha provato si è trovata sempre con... La guerra di Crimea è la guerra tipica da questo punto di vista. Quando Alessandro ci ha provato e si sono coalizzati, è andato contro la Turchia, si sono coalizzati Francia e Inghilterra e si sono trovati subito nella cosiddetta guerra di Crimea e che è importantissimo. Il Piemonte mi pare. Il Piemonte, ci hanno mandato un contingente, ci mandò un contingente 1856, contingente comandato dalla Marmora il quale poi la Marmora morì proprio a... è stato l'unico scontro che noi abbiamo fatto perché poi i nostri uomini sono stati bloccati dal colera e moltissimi ne sono morti proprio a causa del colera. Quindi una delle cause dell'attuale conflitto in Ucraina sottintende, diciamo, come dire, il non volere da parte occidentale che la Russia... Sviluppi perché è una ricchezza enorme! Sviluppi la Cipria. Cosa implica? Implica che se non te lo faccio fare a te e subentro io e lo faccio io. Il gioco è questo, anche adesso c'è il figlio di Biden, è implicato in una serie di questioni tra cui c'è anche quella dello sfruttamento del gas che sta nel Donbass. Quindi la guerra che c'è stata da un decennio per il controllo del Donbass, che tra l'altro è abitata da russi russofoni che vogliono stare con la Russia e non con l'Ucraina, è una guerra legata al fatto che c'è il petrolio e il gas nel Donbass. Per la stessa ragione per cui la guerra e il massacro che c'è stato e continua a esserci a Gaza è perché di fronte a Gaza... Tant'è vero che perché si chiama Gaza? Perché di fronte a Gaza c'è un enorme giacimento di Gaza. Questa è la ragione per cui si chiama Gaza. Dobbiamo ricordarcele queste cose. Quindi tutte le guerre sono date da motivi commerciali, economici. Ecco, altra domanda. Forse le elezioni americane le vincerà Trump, no? E Trump, al contrario di Biden, dice che l'America e l'Europa dovrebbero allearsi con la Russia per combattere la Cina. Quello che non dice Trump è quello che non dice Biden. Biden dice che l'Europa e l'America devono combattere la Russia e la Cina. Quindi, comunque sia, anche se Trump una volta al governo dirà che la Russia è uno Stato amico, eccetera, eccetera, combattiamo tutti insieme la Cina. Per noi europei il discorso non cambia perché noi come Europa non contiamo nulla. È certo, il problema è fondamentale lì, no? Ho intanto colgo l'occasione per dire che la storia dell'umanità, che è molto complessa, e dentro la quale ciascuno ci può vedere le sue linee guida. Io queste linee guida le vedo in una terna. Cioè, i grandi conflitti avvengono sempre con una terna di opzioni, dove due si coalizzano contro uno. Possiamo cominciare da chi? Possiamo cominciare dall'impero romano, anche ancora prima. Perché la guerra che ci fu, ad esempio, tra Ottaviano e Marco Antonio, è una guerra che rappresentava una terna, perché c'era Ottaviano, Marco Antonio e quelli che avevano ucciso Giulio Cesare. Questa è stata una terna. Eliminati i due, cioè Cassio e Bruto, sono rimasti Marco Antonio e Ottaviano. Ma dietro a questa lotta, non era una lotta personalistica, era una lotta geopolitica, perché c'erano due strategie. E non a caso, Marco Antonio stava in Giappone. Scusa, in Egitto. Stava con Cleopatra. Marco Antonio non stava in Egitto perché si era innamorato di Cleopatra. Non mi fai come Biden. Appunto. Io ho in mente il Giappone perché il Giappone, oggi che è uscito di minorità e che è ricchissimo e che ha molte idee e soprattutto ritorna ad avere quella volontà di egemonia in quella specifica area di sua pertinenza, il Giappone giocherà un ruolo importantissimo. Anche quello nell'ambito della terra, perché il Giappone confina con la Russia. Ecco perché volevo far vedere l'immagine della Russia. La Russia confina con il Giappone. Esatto. Sacali, non ho la penisola di Sacali. Tanto è vero, tanto è vero. e il Giappone confina lì perché noi abbiamo l'immagine del Giappone come esclusivamente un gruppo di isole. Invece il Giappone sta proprio inserito dentro questo quadro geopolitico che contempla la Manciuria, la Russia che è lì, Port Arthur. La Corea, la Corea. Esattamente, e la Corea. Vedi caso, quando l'Italia era indipendente, noi lì avevamo una base, una sede che ci fu tolta, che noi avevamo conquistato durante la guerra contro la Cina di fine 800. Non sapeva questo. E cavolo, non sapevi che c'era che c'era la base italiana lì? No. Mai saputo. La base italiana che poi... Ma dove? In Giappone? No, no. Dietro la Corea. Dietro la Corea? Dietro la Corea. Una base militare italiana. No, è una base, era italiana, era una colonia italiana. Colonia addirittura? E come no? Mai saputo. Tant'è vero che c'era un reggimento della San Marco, il quale reggimento ebbe delle vicissitudini incredibili di quei poveri ragazzi. Cioè? E perché prima erano lì ed erano monarchici. Quando ci fu la Repubblica Sociale Italiana aderirono alla Repubblica Sociale Italiana. Poi dopo, con la sconfitta del Giappone, furono fatti prigionieri e furono portati in Siberia. Dalla Siberia riuscirono a tornare indirettamente in Italia passando per Boston, mi parla di quelle parti là, capito? Per America. E poi ero un reggimento della fanteria di marina italiana. E pure dei libri, giornali non ne parla nessuno. Ma se ne parla qui non parla niente, delle cose in realtà non parla niente nessuno. E che posizione non avevamo poi. E a tutt'oggi questo questo piccolo centro a tutt'oggi ha ancora l'architettura delle case sullo stile italiano nel cuore della Cina. Dietro dietro la Corea. Magina? Sì. E non sai come si chiama adesso? Erano queste legazioni. Adesso non mi viene il nome perché a furia di ricordare tutte le cose. Ma è un nome banalissimo. Ho capito. Interessante. È un nome banalissimo. Va bene. Quindi ciò sono tutte storie incredibili che ci dicono molte cose. Perché noi la scusa era che noi eravamo intervenuti contro quei ribelli ultranazionalisti cinesi. Ma in realtà noi eravamo andati lì per porre le basi della nostra presenza in Cina. Cina e Giappone tutti e due vicini e Corea tutti e tre appiccicati. Capito? Senti come lo vedi il futuro dell'Europa? Allora E quindi di noi italiani? Il futuro dell'Europa io la vedo così sempre nell'ambito di una terna perché noi abbiamo tre opzioni accentuare il nostro asservimento nei confronti degli Stati Uniti trovare una via intermedia perché ricordiamoci che noi Italia poco prima di questo conflitto stava giocando su tre almeno su tre tavolini i nostri rapporti con la Russia erano notevoli questi questi mascalzoni per i loro interessi parlo degli americani ci hanno tagliato tant'è vero che hanno tagliato un flusso costante no? di merci e di ricchezze dalla Russia non fosse altro che venivano qui in Italia a comprare il prodotto italiano no? nell'ambito della moda della bellezza dello stile italiano e quant'altro questo ce l'hanno completamente tagliato migliaia di aziende hanno chiuso per non per non citare della dell'energia a basso costo sappiamo tutti ormai purtroppo quindi allora che è quello che ha buttato per avere la Germania la Germania oggi attenzione siccome la Germania è sempre stata la punta di diamante della produzione industriale ed Europa la Germania ha sempre dato un grande fastidio alla geopolitica americana la geopolitica americana uno dei punti cardine della geopolitica americana è quello di tagliare le comunicazioni tra la Germania e la Russia e ci sono riusciti ma mentre questo taglio non ha comportato niente per la Russia anzi ha aumentato la sua ricchezza perché il petrolio lo vende dove come vuole il gas lo vende dove come vuole la produzione anche agricola è una produzione che può avere un enorme progresso man mano che la ferrovia che la nuova ferrovia della Siberia conquisterà nuovi spazi e ricordiamoci che come negli Stati Uniti la lottizzazione avviene attraverso la ferrovia gli Stati Uniti sono nati e sono cresciuti con la storia delle ferrovie da una cosa all'altra dall'est all'ovest sono quelle che hanno determinato poi il successo di questo strano paese la scomparsa dei nativi la strage dei nativi cento milioni di nativi fatti fuori ricordiamocelo secondo lo stile che noi conosciamo molto bene e che stiamo vivendo anche oggi capito quindi è la ferrovia allora come oggi che determina il progresso della come dire della produzione dello sfruttamento terriero e tutto il resto economico economico terriero e tutto il resto se non c'è la ferrovia se non c'è un sistema di comunicazione quindi Giorgio scusami vorrei concludere una cosa perché Roma è stata grande perché Roma è stata importante perché costruiva le strade certo certo se no non era niente perché la comunicazione è quella e quindi un altro ragionamento che dobbiamo fare teniamo sempre presente che il progresso passa attraverso la comunicazione e passa anche attraverso la velocità dei treni ecco perché oggi noi in Italia da pochissimo tempo abbiamo dei treni che vanno velocissimi mentre prima non li potevamo avere no ecco il primo poc'anche ha accennato alla venuta del direttore delle ferrovie russe si il presidente delle ferrovie russe è venuto in Italia a illustrare il progetto il progetto era quello di una seconda ferrovia di una seconda ferrovia esattamente che prendesse che la vecchia transiberiana con un'altra a velocità molto sostenuta e che permettesse nell'ambito di questo tragitto c'erano già i progetti della suddivisione dei territori con la relativa produzione industriale estrattiva capito e quindi era venuto qui in Italia è venuto a Roma ha fatto questa conferenza anche per chiedere la partecipazione magari italiana ma penso di sicuro se uno viene a Roma a fare una conferenza di questo tipo evidentemente ci sono delle intenzioni recondite purtroppo non sarà più questo ma non è detto non è detto mai perché giochi i veri giochi sono tutti sotterranei e allora bisogna vedere che cosa funziona sotto sottotraccia non lo possiamo sapere benissimo allora io ringrazierai Giorgio per queste piccole di saggezza e alla prossima saluta a tutti gli amici parleremo del suo sindacato parleremo dell'importanza del ruolo del sindacalismo dei quadri che non a caso è stato stritolato dagli interessi congiunti tra il sindacalismo del cosiddetto operaio o impiegatissio anche lì bisogna fare un discorso politico e soprattutto sociologico del ruolo svolto da certi sindacati e il padronato industriale e di altro genere benissimo arrivederci a tutti alla prossima grazie a tutti